In questo video cercheremo di svelare tutti i segreti legati alla macinatura per un ottimo espresso. Che sia a casa o al bar, capiremo perché certe volte il nostro caffè non è così allettante e buono. Inoltre, capiremo il vero motivo per il quale noi dobbiamo macinare il caffè e in che modo dobbiamo farlo. Vi avverto però, questo video è un pelino più nerd del normale, ma semplificherò i concetti per tutti quanti. E adesso, iniziamo! Via! Ora che ci penso, questo video è più un unboxing unito al funzionamento del macinino, ma vediamo un po' di che cosa stiamo parlando. Questo è il macinino che vedremo adesso. Come anticipato all'inizio, è un macinino on demand e fondamentalmente adesso vedremo un po' i pezzi in ordine, giusto per capire un po' come funziona. Adesso la parte centrale, il core del macinino, eccolo qui. L'ho preso dello stesso colore della macchina da caffè, ovviamente, color guacamole, che carino. E poi c'è questo pezzo che dopo vedremo... Ah, sì, ok, questo andrà sicuramente in questa parte. Monteremo questo. Molto molto carino, molto molto carino. Togliamo questa parte, togliamo questa che non ci serve. E adesso vediamo il funzionamento. Beh, partendo sicuramente dalla tramoggia, che è in grado di ospitare, credo, circa un 200-300 grammi, la classica ghigliottina, e la rondella che serve a distanziare le macine, ma questo lo vedremo tra poco nel video. Poi qui il display che vedremo acceso a breve, la forca per poggiare il portafiltro e il classico pulsante che servirà ad azionare la macinatura. Ora lo vado a sostituire, vi faccio vedere anche un po' questo vecchiotto, che poi vecchiotto non è, ma adesso questo si trasformerà nel mio macinino per il caffè filtro. Devo semplicemente regolare la macinatura, mentre questo diventerà il mio nuovo macinino per espresso. E vediamo un po'. Molto intuitivo lo schermo, il tempo totale, la possibilità di registrare con una tazza o due tazze in modo tale da fare singolo o doppio, e il più e il meno per aumentare o diminuire il tempo di macinatura. Se poi invece premo tutti e due i tasti contemporaneamente, andrò nella fase di dose continua. Ora, questo tipo di macinino on demand in Italia viene spesso utilizzato come macinino per il decaffeinato. Il problema però è che spesso non gli viene spiegato come regolare quel tipo di macinino, quindi tendenzialmente il decaffeinato spesso fa c***o al bar, semplicemente perché non sanno come regolarlo o non sanno che si deve regolare. Partiamo da un concetto fondamentale, macinare il caffè fresco è l'unica variabile che da subito vi migliorerà di netto il gusto del vostro caffè, qualsiasi metodologia voi vogliate utilizzare, che sia la mocha o l'espresso. Ma perché dobbiamo macinare il caffè? Macinare il caffè serve ad aumentare la superficie di contatto con l'acqua. Mi spiego un pochettino meglio. Ora, se noi dovessimo prendere dei chicchi interi e immergerli in acqua calda, probabilmente qualcosina l'acqua riuscirà ad estrarre. Ma rompendo il chicco, noi che cos'è che faremo? Aumentiamo la superficie di contatto con l'acqua e daremo all'acqua appunto più spazio e più accessibilità al materiale presente all'interno del chicco. Un buon macinino per espresso deve avere alcune caratteristiche fondamentali. La prima, quella di essere in grado di macinare il chicco in maniera molto molto sottile, perché l'espresso è una bevanda molto molto concentrata e i tempi di estrazione sono molto ristretti. Tra i 25 e i 30 secondi circa. La seconda caratteristica è che deve cercare di macinare il particolato nella maniera più uniforme e uguale possibile. In modo tale che l'acqua quando passa attraverso le particelle di caffè, se hanno la stessa forma, riuscirà a prendere le stesse cose da tutte le particelle. Un po' è come quando dobbiamo cucinare le verdure al forno. Più noi siamo bravi e le tagliamo nella stessa misura e con la stessa forma, più la cottura sarà uniforme. E adesso torniamo al video. La prima cosa da fare è attraverso l'utilizzo di una bilancia capire la dose. Al momento io andrò a regolare la macinatura sempre per i due espressi e ho come dose prestabilita nella mia testa 17,5 grammi. Quindi vado nella modalità dose continua e inizierò a macinare un po' di caffè e farò le mie prime prove cercando di capire, pesando ovviamente, quanto tempo ci impiega a macinare la dose che io mi sono prestabilito. Decisamente non buono, ma cosa sarà successo? Cerchiamo di capirlo. Il concetto è molto semplice. Quello che abbiamo appena visto si chiama sottoestrazione e cioè quando l'acqua corre e passa attraverso le particelle di caffè in maniera molto veloce. Questo accade nella maggior parte dei casi perché la macinatura e le macine sono distanti troppo l'una dall'altra. Quindi il macinato che sta venendo fuori è molto grande e l'acqua trova la sua via di uscita in maniera molto veloce. La tazzina in questo caso tenderà ad avere delle note più pronunciate verso l'acidità. Questo perché andremo ad estrarre le sostanze più volatili che sono di solito acidi e caffeina. Al contrario invece quando l'acqua fa molta fatica a passare attraverso le particelle di caffè bene, la problematica potrebbe essere che le macine sono troppo vicine l'una con l'altra. Stiamo macinando il nostro particolato in maniera molto sottile e l'acqua per trovare la sua via di uscita farà molta fatica e quindi il tempo di contatto si allungherà oltre i 35-40 secondi. In questo caso la tazzina tenderà ad avere delle note molto amare più tendenti al bruciato e alla cenere. E adesso torniamo al video. Ah, finalmente abbiamo trovato una quadra e adesso passiamo ai consigli pratici. Ma prima di andare avanti ti chiedo un semplice like se questo video lo stai trovando utile e ti sta piacendo. Se invece è la prima volta che capiti su questo canale bene, benvenuto. Sono Angelo, il detective del caffè ed in questo canale trattiamo solo argomenti legati al caffè e alle metodologie di estrazione. E se come me condividi anche tu questa stessa passione bene, ti invito a cliccare sul tasto iscriviti proprio qui sotto. Ti assicuro, non te ne pentirai. E adesso i consigli pratici. Il caffè si macina per semplificare l'estrazione di materiale da parte dell'acqua. La macinatura per un ottimo espresso è molto sottile. Questo perché l'espresso è una bevanda molto concentrata. E un buon tempo di contatto per un buon espresso tendenzialmente si aggira tra i 25 e i 30, 32 secondi. Ricordiamoci sempre che quando dobbiamo regolare la macinatura i movimenti da fare sono molto molto piccoli. Nel caso della sottestrazione andremo a stringere, quindi andremo a seguire la freccetta che ci indica verso fine. Questo perché si avvicineranno le macine. Al contrario invece se siamo in sovraestrazione andremo piano piano ad allargare la macinatura e quindi distanziare le macine. Ricordatevi, fondamentale, i movimenti molto piccoli. E ogni qual volta facciamo uno spostamento, quindi cambiamo la macinatura, dobbiamo sempre spurgare un pochettino di caffè. Questo perché alcuni chicchi, circa 10-20 grammi dipende un po' dal macinino, rimangono incastrati alla macinatura appena avuta. E per finire la macinatura non è l'unica delle variabili. È molto importante da impararla a gestire soprattutto all'inizio e per dare una quadra al nostro macinino, ma ce ne sono tante altre che se le impariamo a gestire impareremo a modificare il gusto del nostro espresso senza sprecare tanto caffè. Una di queste ve la lascio nei link nelle descrizioni e nel video successivo che vedete qui alla mia sinistra. Al momento io mi fermo qui, ma mi piacerebbe sapere da te con quale di queste problematiche hai avuto a che fare di più o se hai delle domande specifiche sulla macinatura scrivimele pure nei commenti qui sotto. Grazie mille per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!